Il Giotto Prologo della Classicissima Non ho mai fatto in vita mia su corsi ciclisti, tantomeno le faccio per questa Milano Sanremo che presenta tanta incertezza dal numero, la qualità e la quantità degli atleti che è assolutamente possibile anche a chi modestamente si intende un po' di ciclismo come me dare un nome o anche fare una rosa di nuovo. Come organizzatore non posso fare alcuna previsione, mi auguro semplicemente che vincere l'organizzazione. Dopo Toriami De Martino Ah, il vincitore, Coppi naturalmente, tutti lo dicono, vai Coppi. Bocali, per me Coppi. Grazie a Bocali. Natale Bertocco, direi Ugo Koblet. Radice sembra saperne più di tutti. Beh, per me vince Coppi, l'ho visto la Parigi Costa Azzurra, a parte il raffreddore, è veramente in forma. Ci vuol dire come sta con il suo raffreddore? Beh, è diventato un po' una favola ormai, comunque è quasi guarito, lo sto meglio almeno. È in forma, allora. È in forma, è in forma. È un pronostico. È un pronostico, Coppi. Coppi disse così anche l'anno scorso e vinse invece Petrucci. Porto, basta. Che cosa vuole? Chi è che vince la Milano Sanremo? Non lo so mica io. No, sai, non lo so male. Lei crede che Fiorenzo Magni vincerà la Milano Sanremo? No. No? No. E chi la vincerà allora? È la corsa dei giovani, eh. Noi siamo già un po' vecchi. Magari Albani, sì. Perché no? Va bene, grazie. Vittorio Veltroni, Fiorenzo Magni e Filippi. Tutte previsioni che non si avvereranno. Anche la nostra per quanto riguarda la corsa verso il sole. Lo troveremo troppo tardi, dopo esserci inzuppati insieme coi corridori. Troveremo invece i passaggi a livello chiusi. Quelli sembra che lo facciano apposta. Aspettano i corridori per abbassarsi. È la 45esima edizione della Classicissima, la 15esima che si disputa nel giorno di San Giuseppe. Da Milano a Sanremo, chilometri 282. Il Turchino a metà strada, Capomele, Capocervo e Capoberta nel finale. Sono partiti in 219, tra cui 93 stranieri. Due cifre, due primati assoluti. Sono partiti a pieni pedali, come è tradizione della Sanremo di questo dopoguerra. Non è più una corsa per arrampicatori, ma una gara frenetica per velocisti. Dopo le vittorie solitarie di Coppi e Bartali, tre di Fausto e una di Gino, cominciano i volatoni. Nel 50 lo vince Bartali sullo specialista Rick Van Stenbergen e altri 48 corridori. Poi, dopo la vittoria del tandem Bobet-Barbotin, squila per due volte il nome di un levriero. Loretto Petrucci, che trionfa prima su 13 e poi su 5 avversari. Portando l'anno scorso la media primato a 40 e 349. A Pavia oggi la media è di oltre 42. A Boghera cinque uomini in testa con al comando il francese La Joie, il 117. Cambiano poi i battistrada. A Novi Ligure transitano primi Piazza, il 57, e Gervasoni, il 135, che si alternano nel fare l'andatura. A Ovada, Piazza lascia Gervasoni e retta solo al comando. Alle sue spalle incalzano quattro inseguitori, che a Campo Ligure lo riprenderanno. Sono Gaggero, Gismondi, Medri e il francese Gauthier. I cinque fuggitivi attaccheranno insieme il Turchino, ma dopo tre chilometri piazza perderà contatto. Sulla vetta passano nell'ordine Gaggero, Medri, Gismondi e Gauthier. Eccoli a tutta velocità nella discesa su Voltri. Il gruppo con Coppi e altri 15 corridori è staccato di circa un minuto e mezzo. La riviera ci accoglie col cielo umido e i passaggi a livello chiusi. Pazienza, sino a quando i treni ferroviari non saranno divenuti treni e elicotteri. Caduti, Medri e Gauthier, attardato da foratura a Gaggero. Gismondi solo in testa ad Arenzano. Ad Alvisola vediamo Magni. A Savona, a meno di 100 chilometri dall'arrivo, controllo rifornimento. Koblet è di buon umore ma sa già di non vincere. Lo pensa forse anche Coppi in questo momento di rilassatezza. Tra Savona e finale Ligure raggiunto Gismondi, scappa subito Grosso, uno specialista in evasioni. Anche lui però sarà presto acciuffato. Adesso siamo ad Albenga, sono 10 in testa. Con Fornara che fa da battistrada, Filippi, Crespi, Remi, Bartalini, Ciolli, Nencini, Gianneschi e Ockers. All'attacco dei famosi tre colli il plotone si assottiglia. Sono rimasti soltanto i cinque, Remi, Ockers, Filippi, Crespi e Fornara. Cinque maschere di fango, specialmente Ockers e Remi. Scomparso Crespi, investito da una macchina del seguito, cederà Fornara. Non ha ceduto invece Filippi. Ed è proprio lui a monopolizzare tutti gli applausi delle migliaia di tifosi mobilitati sulle rampe del Bertha. Eccolo nettamente in testa, seguito dal francese Remi e dal belga Ockers. Coppi, nella scia, non ha forzato abbastanza per ricongiungersi con i fuggitivi. Ormai, salvo imprevisti, la volata per la vittoria dovrebbe limitarsi ai tre protagonisti dell'attacco sul Bertha. Ma all'orecchio di Ockers è giunta una notizia che lo fa desistere dai propositi di collaborazione con i compagni di fuga. Rick Van Stenbergen è nel gruppo alle spalle, per cui se riuscisse ad acciuparli potrebbe far sua la vittoria che Bartali già gli soffiò nel 50. Sono 20 anni che un belga non vince la Sanremo e questa potrebbe essere la volta buona. La condotta passiva di Ockers fa sì che a due chilometri dal traguardo i tre fuggitivi si ero raggiunti. Naturalmente Ockers si è posto subito ai servizi del capo, al quale tirerà la volata. Detto e fatto. Il piano di Ockers è riuscito così bene che a 300 metri dal traguardo Van Stenbergen ha praticamente corsa vinta. Lo seguono il 21enne italo-francese Anastasi, rivelazione della Parigi costa azzurra. Il modesto Favero. Coppi e Petrucci che nel tumultuoso epilogo non sono riusciti a far di meglio. Ripreso anche col teleobiettivo il volatone finale dei 60 corridori mostra gli accorgimenti tattici messi in atto da ciascuno per cercare la ruota buona. Riprese del genere danno ragione ad Alfredo Oriani che chiamava i ciclisti arrotini impazziti. Rick Van Stenbergen è impazzito di certo, ma di gioia. E con lui Girardengo, primatista della Savremo con sei vittorie e oggi vittorioso in veste di industriale. Quanto a Coppi non gli mancheranno le occasioni per prendersi una rivincita a breve scadenza.